Prima si azzuffano tra loro, scatenando una rissa, e poi all'arrivo dei militari intervenuti per sedare la lite si scagliano contro di loro. È successo la notte scorsa a Trani, dove i carabinieri della compagnia hanno arrestato un 38enne ed un 40enne, quest'ultimo già gravato da qualche precedente, accusati di lesioni personali aggravate, oltraggio, violenza e resistenza pubblico ufficiale. Una richiesta di intervento pervenuta al 112 da parte di alcuni residenti della zona che avevano sentito gli schiamazzi per strada hanno fatto dirottare una gazzella dell'arma in via La Galante. Qui i militari hanno trovato tre uomini che si stavano picchiando, uno di loro, accortosi dell'arrivo della pattuglia, è fuggito. I carabinieri a questo punto hanno tentato di separare i due contendenti e, nonostante la loro resistenza, l'arrivo dei rinforzi sono riusciti a porre fine alla zuffa e ad arrestare i due esagitati. Il tutto non prima di aver soccorso il 38enne che aveva riportato una vistosa ferita in volto. Sette i giorni di prognosi. Su disposizione della procura di Trani, i due sono finiti agli arresti domiciliari.